Alle ore 19.41 di ieri, venerdì 5 maggio, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di terremoto nell'area dei campi Flegrei. Il sisma di magnitudine 1.6 della scala Richter e con epicentro preliminare localizzato a largo di Bacoli nel golfo di Pozzuolo è avvenuto a una profondità di 3.9 km ed è stato accompagnato da un boato. Gli abitanti della fascia costiera, in particolare a Bacoli e Miseno, hanno avvertito il terremoto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.